Giornata di Eola Sella attualmente in terza posizione, mentre è pronta a iniziare il suo esercizio con la palla, Giorgia Galli della San Giorgio 79 di Desio. Giorgia Galli della San Giorgio 80 di Desi. Giorgia Galli della San Giorgio 80 di Desi. E conclude il suo esercizio alla palla e la gara di oggi anche Giorgia Galli.